Siamo di sentire che decisioni prende la Presidente, poi vediamo che adesso non le hanno fatto trovare una situazione semplice, obiettivamente. Vabbè, non era semplice neanche prima, ma scusa, perché prima era semplice? No, lo dicerei io. Comunque io vado avanti perché penso anzi che a maggior ragione oggi c'è bisogno di un movimento civico che prenda in mano la situazione e possibilmente la guida della città, proprio perché è dalle forze della città, dalle forze civiche che può anche arrivare una stagione nuova. Ci sarà comunque una lista del PD a supporto della sua candidatura? Certo, c'è la lista del PD, come ci sono le liste di più Europa, dei socialisti, di articolo 1, c'è tutta la coalizione di centrosinistra che continuerà a appoggiare. Pensa di porre dei veti in questa lista? Senta di avere maggior potere adesso per farlo? Io quello ce l'avevo già da prima, il candidato sindaco può decidere sulle liste. No, quello che mi aspetto magari è un segno di rinnovamento che questa situazione qua si è, insomma, la lezione si è capita. Mi dice, né da giornalista né da candidato, da cittadino, che sensazione le ha fatto leggere quelle intercettazioni? Beh, innanzitutto tutto quello che appare nelle intercettazioni va poi, deve passare al giudizio di un'aula, di un processo, le intercettazioni possono dare anche impressioni diverse rispetto a quelle che lette sui giornali, dico rispetto ai colloqui veri, bisogna vedere in che contesti sono avvenuti, cioè, insomma, poi non bisogna neanche essere troppo faciloni nel giudicare queste cose. L'impressione sgradevole è che ci sia un sistema che privilegi certe persone all'iscapito di altre, con questa l'impressione negativa che si ha. Secondo me si dovrebbe dimettere la Marini? Cioè, io non posso dire se si deve dimettere. Parlando sempre da cittadino. Ma no, perché io penso, nel senso che davvero deve decidere lei, perché lei sa che cosa ha fatto, il peso delle, diciamo, delle dichiarazioni che le sono attribuite o delle registrazioni che sono state prese rispetto a quello che ha detto lei, quindi davvero non, cioè, deve decidere lei. Grazie. Sul serio, non voglio ridurre la domanda, ma perché è lei che sa che cosa, diciamo, no? Quali sono stati i suoi comportamenti veri. Io confesso che da giornalista dico che mi fido poco della stampa. Nel senso, c'è una giusta dose di prudenza rispetto alle cose che leggo sui giornali, perché avendo fatto questo mestiere da 40 e più anni... Beh, non saremo peggio dei politici. No, no, però io adesso io ho un altro ruolo, ma se fossi giornalista farei come te. Naturalmente mi fionderei sulle cose, diciamo, che fanno notizia, non è ovvio. Grazie, soprattutto per la disponibilità. Grazie mille. Buona serata. Ciao.